Oddio, speriamo bene. Due freddure veloci, freddure veloci, veloci. Vai. C'è una donna, cade dal sesto piano, ma non muore. Sapete perché? Per chi? Aveva la sorbetta con le ali. Bello, questa. Conviviti, Alessandro. E' l'espressione che facciamo, ragazzi. Amica, all'alba dire, va a cantare. Grazie per la pubblicità che ci stai facendo, eh. Spero, c'è un'altra. La domanda che mi assilla da giorni. Volevo sapere, ma gli istitici, quando muoiono, vanno in purgatorio? Grazie, Alessandro, grazie. Questa non è la vettura, è accelata proprio. È un iceberg in platea questo. Va bene, ok.